ciao ciao a tutti di rettina anche di domenica ciao ciao a tutti oggi si parla di idio o post quale sarà il grande segreto vediamo se si connette qualcuno una e mezza di domenica italia secondo me sono tutti al gran pasto coi parenti con oramai la nausea da carboidrato gli occhi a spirale come giapponesi quelli che girano così proprio in overdose da carboidrato va bene ok ok ciao a tutti oggi si parla di ovviamente di social media e parliamo nello specifico di facebook e parleremo di video opposto ovvero tagliando corto e andando al sodo come piace a me faccio più grana facendo impostando un sistema un funnel un percorso video oppure un percorso fatto di post domanda che mi viene fatta molto spesso qui vorrei dare una risposta allora la risposta è esatta è sempre come al solito dipende ok dobbiamo andare a sviscerare qualche concetto per capire quindi qual è il fine di una persona sui social un fine di una persona sui social che utilizza una pagina business che fare grana fare soldi come si fanno i soldi con i social si deve impostare ok un format ma sopra di tutto ci deve essere una grande idea come continuo a dire sempre ragazzi lo so sono ripetitivo ma queste cose che ripeto sono giuste quindi ho un'idea ho un target specifico a cui mostrare questa idea e poi devo avere un filo conduttore un format per far vedere questo per fare mostrare per vendere appunto questa grande idea che ho ok qualcuno si è connesso ragazzi ditemi se si sente se tutto a posto il microfono è acceso sapete che una delle cose che mi capita più spesso a volte c'è l'errore più grande che faccio quando registro i videocorsi spesso è di registrare come sto facendo adesso e poi il microfono è spento io magari parlo a raffica per 20 minuti per registrare una sessione poi me la prendo nel culo perché vedo la timeline completamente vuota e dico ok sono stato un gran coglione della giornata rifatti tutti i venti minuti è sparata unica vabbè comunque ciao ciao longo ciao parliamo di facebook ok parliamo di come fare grana con facebook parliamo di come impostare il business sui social che è il mio argomento principale quindi abbiamo detto devo avere un'idea devo avere un target specifico e devo avere un format ok a cosa serve questo serve per impostare il nostro percorso praticamente un percorso educativo che dovranno fare le persone da per diventare da perfette sconosciute a persone che ci lasciano i soldi una volta che ci lasciano i soldi due volte ma soprattutto che diventano nostri fan e ci lasciano i soldi x volte con x amici questo è il vero senso del marketing ok questo serve non ci inventiamo a cazzate ve lo dico sempre lo ripeto sempre il marketing non è quello che vi vendono quella cosa benchmark cazzate ok il marketing di base è una cosa semplice serve a prendere una persona perfettamente sconosciuta e portarla a diventare un tuo fan ok fagli fare delle azioni specifiche in un percorso specifico per diventare tuo fan e lasciarti i soldi lasciarti nel più possibile ma soprattutto far sì che sia talmente in su entusiasta di questo di questa cosa che stai creando che crea lui stesso una community di persone ti sponsorizza diventano fan e tutti ti lanciano i soldi così cioè l'idea del marketing è questa puoi applicarla chiaramente è è differente quindi si parte da come ho detto un concetto semplice dove trovo i clienti per far vedere la mia potenziale idea la mia potenziale soluzione la mia big idea e ragazzi oggi facebook è il posto dove ci sono c'è più possibilità di di ottenere leads ok ottenere clienti a basso costo è veramente cheap perché pensateci bene quanto vi costerebbe fare una pubblicità in televisione quanto vi costerebbe avere un commerciale ok o quanto vi costa avere un commerciale parliamo di numeri un commerciale per un'azienda ma minimo minimo ma proprio per a tenerlo a frustate ti costa 20 mila euro l'anno più le provisioni ma proprio a cinghiate oppure lo prendi è completamente autonomo ma lui si romperà il cazzo di tempo il tuo presto perché comunque non può farsi il tuo lavoro quindi facebook in realtà fa il lavoro dei commerciali fa il lavoro della televisione insomma è il posto oggi migliore per attrarre potenziali clienti qualsiasi business tu possa fare ok c'è chiaro che c'è poi c'è qualche eccezione però comunque di base possiamo lavorare benissimo su facebook di portare la tua azienda il tuo business su facebook iniziare un business su facebook oggi ai prezzi che abbiamo è sicuramente la cosa più conveniente che tu possa fare chiaramente non puoi farlo così apro la pagina invito quattro amici e tento di vendere anche perché poi come leggo spesso come vengono spesso le persone a dirmi di marco ma come cazzo è che non faccio soldi è una settimana che ho aperto la pagina non faccio soldi ragazzi fai i soldi in una settimana se o sei dio delle ads o veramente sei una persona che ha avuto un culo della madonna perché ragazzi fare soldi una settimana non esiste sapete quanto ci ho messo io a impostare i miei business su facebook sapete quanto ci metto anche quando gestisco il business di qualcosa ci va tempo cioè ma minimo ma proprio così pronti via minimo ci fanno tre mesi ragazzi e tre mesi perché le persone cominciano a pisciarvi guarda invece ci sono anche delle eccezioni ci sono anche i modi per per pompare di più però comunque a facebook non piace quando tu pompi subito partendo da zero perché facebook ti vede come una minaccia dice questo sta buttando sta sparando sta spammando ok alt fermati le cose vanno fatte per gradi ok si si va su facebook si imposta il format si cerca il target si comincia a parlare si fa educazione quello che io sto facendo adesso ok voi state ascoltando una mia diretta dove io vi do un sacco di valore lo faccio tutti i giorni ho un sacco di video sono anni che faccio video chiaramente io poi vi propongo di fare un corso gratuito dopo il corso gratuito vi venderò un corso pagamento e dopo vi venderò un corso ovviamente da 1000 euro che costa più caro e poi se volete la mia consulenza annuale sono volte di 8000 euro quindi questo è quello che sono i miei step no però non è detto che tutti devono per forza fare quel percorso intanto di base ho impostato un format quindi faccio le dirette parlo di facebook parlo di social rispondo le vostre domande e soprattutto vi aiuto vi aiuto maniera gratuita qua in diretta e poi ovviamente vi educo vi educo alla mia idea ok e poi piano piano mi porto su chi vuole venire e voi sarete talmente entusiasti che mi sponsorizzerete i vostri amici e io farò un sacco di grana con i social anche voi di conseguenza scherzo oggi sono simpatico com'è state avete ancora la lasagna che vi cola dalla bocca perché solitamente domenica l'italiano alle 13 e 38 c'ha un po la bava di besciamella che cola giù in realtà essendo un atipico italiano atipico misantropo finisco questa diretta e vado a mangiarmi un sushi ho deciso anzi una cirashi una cirashi di salmone con salsa spicy ho deciso oggi mi va quello con una coca zero questo sarà il mio pranzo di oggi e poi si torna a travaglie va bene voi che business avete insomma scrivetemi qualcosa non è gratis è scrivere ragazzi non vi consumate il dito mettete like soprattutto fatemi pompare un po l'engagement della pagina rendetevi utili anche voi non fate parlare solo me va bene cosa potevo raccontare oggi volevo dire una cosa tra l'altro sì come dovrò farci un video a parte ma bisogna anche poi considerare il discorso di come affrontare le critiche ok quindi abbiamo detto che una volta che ho impostato tutto quanto chiaramente chiaramente che sia video opposte adesso ci arrivo dovrò scontrarmi con la gente la gente purtroppo o per fortuna sui social ci va perché si sente in dovere e in diritto di dire di parlare a vanvera di dire tutto quello che gli viene per la testa senza ragionare questo è un po il problema dei social è un po il problema delle persone che hanno anche diritto di voto quindi queste persone te le ritrovi puntualmente sotto i tuoi format cioè tu metti una sponsorizzata per parlare della tua idea al tuo target puntualmente trovi queste persone a criticarti quindi questo capiterà tutti i giorni qualsiasi sia il tuo format quindi questa è una cosa di cui vorrei fare un un video appunto per parlare meglio di come affrontarlo ok recentemente cioè poi a me ne dicono tutti i colori mi accusano di aver copiato aver fatto ragazzi a me non me ne frega un cazzo qualsiasi cosa mi dite mi diciate io me ne frego perché tanto qualsiasi cosa farai sui social verrai criticato il problema è che la gente tende a crederci è come se io puntasse il dito su una persona e dicessi una bugia è ovvio che la gente tende a crederci questo è un problema quindi bisogna fregarsene riderci sopra e boh andare avanti questo è un po il modo per affrontare le critiche si chiama anche il metodo la gianni morandi che non non stiamo non di quello che lui mangia ciò che no ma lui ha un metodo particolare che ha sdogagato di rispondere che è un po simpatico insomma ci si ride sopra si percula ecco diciamo così io di base non rispondo mai ok a volte capita che sento che in altri gruppi mi criticano che mi criticano che non so se ragazzo freghiamoci cioè i social funzionano così quindi facebook video o post allora posso dirvi una verità la risposta come dicevo prima è dipende dipende che tipo di format tu hai in mente per il tuo target specifico per dirti io per tanti anni ho fatto video ok fatto video ho fatto video più o meno spesso insomma sono sempre video che comunque tendono a monetizzare quindi a educare la persona a lasciarmi la mail dopo la mail comunque comprare questo è un po quello che ho sempre fatto queste dirette sono la stessa cosa però di recente ho anche fatto impostato un altro business ho fatto un esperimento dove non ho utilizzato video per qualche mese e ho utilizzato soltanto la dei fumetti ok ho fatto fare dei fumetti erano dei fumetti per il target e se fatevi il corso gratuito che c'è qua nel link anzi ve lo metto subito se non l'ho ancora messo vediamo un po se ci siamo in diretta allora sulla pagina e praticamente parlavo del del format che avevo impostato ed era un format ed è stato un format solo tanto di post è piaciuto molto piace molto e se andate a vedere i miei corsi vi rinco anche vi faccio vedere il caso studio soprattutto se vi comprate le alz non servono un razzo andrete andrete a scoprire tutto quello che ho fatto step by step per ottenere un sacco di risultati in un settore dove nessuno mi conosceva ok allora siamo qua ok ragazzi mettetemi anche un po di like facciamo pompare un po ste dirette va bene quindi la risposta in generale dipende dipende se dipende come tu vuoi poi impostare il discorso è chiaro che i video oggi prendono una botta di engagement in più le dirette quelle che vedi perché faccio le dirette non faccio le cose a caso ragazzi ovvio da una parte c'è un po di comodità nel senso che la diretta è una cosa che accendo apro la telecamera parlo e non devo montare il video ok d'altra parte facebook premia le dirette quindi oggi fare un video fare una diretta è per facebook per l'algoritmo di facebook più importante quindi in realtà è una cosa che faccio di proposito però ho ottenuto un sacco di risultati anche con i post perché ho creato queste questo format di fumetti e avere realizzato molto nel target perché questi fumetti parlano di un target specifico ok non danno una idea una soluzione ma però parlano di quel target quindi faccio sentire qualcosa a quel target e nei social questo funziona molto quindi in realtà dipende molto da come tu incastri i tasselli nei miei corsi io spiego sempre una cosa semplice il marketing di base deve essere semplice ti spiego quei quattro passi che vanno fatti all'inizio per ottenere il 20 per cento scusa per ottenere l'ottanta per cento dei risultati con un 20 per cento di lavoro c'è le cose più semplici come se ti dicessi quello che serve veramente eh se tu devi eh utilizzare un macchinario di guidare una macchina cioè sono le prime quattro cose che devi sapere sono queste iniziamo e poi da lì ti spiego le finezze ma però le non possiamo partire dalle finiture come fanno in tutti i corsi che sto vedendo in giro qua in italia soprattutto vedo i corsi facebook che parlano partono da delle cose ragazzi cioè senza impostare la base senza parlare di quello che c'è tra il target è quello che tu hai da dire eh partiamo con ragazzi no no quello viene dopo cominciamo a ottenere risultati cominciamo a vedere che le persone il senso di tutto inizia quando le persone hanno attenzione prestano attenzione quello che tu dici se io non riesco a tirare l'attenzione con quello che faccio è inutile che vado a ottimizzare la campagna facebook capisci ragazzi che non stiamo parlando di niente dobbiamo fare le cose semplici ottenere il risultato principale che è l'attenzione delle persone al mio prodotto servizio quindi ok c'è mercato o attenzione bene ottimizzo ma non possiamo parlare subito di fare cose complicate di ottimizzare mi vado a comprare il super software della madonna no non serve a niente ce la puoi fare con una pagina di facebook e quattro parole davanti a un microfono una telecamera poi ci mettiamo lì e andiamo a pensare a come creare il sito del retargeting andiamo a vedere usiamo click funnel no me lo faccio con member prestano insomma tutto quello lo facciamo dopo ma prima dobbiamo impostare le cose semplici e qua io vedo persone che hanno cose complicatissime sistemi funnel super iper complicati e sofisticati non vendono un cazzo ragazzi non vendono niente è uno dei primi webinar webinar l'ho venduto su così cioè ho aperto la pagina ragazzi boh lo volete comprare l'ho fatto su un gruppo facebook non c'era nessun poi dopo ho rimesso a posto la la membership la pagina di membership ho creato insomma l'ho fatto dopo ok dopo dopo perché prima ho visto che le persone interessava io dove mi sono posizionato mi sono posizionato parlando di social che è una cosa che faccio sempre social vini insomma quello che faccio copy il mio lavoro e tutto questo lo faccio in chiave semplice ragazzi cose per togliere la confusione della testa vieni qua e ti faccio vedere come fare soldi punto marketing serve per fare soldi faccio vedere come fare ok ti imposto il percorso 1 2 3 e vai che e vai sicuro e vai liscio se fai le cose che ti dico ottieni risultati ok quindi è un po quello che che ho fatto che ho impostato benissimo ragazzi io vedo nel mio qua nel mio orologino della leggo qui ok qui che è ora per me di andare a a mangiarmi la mia cirashi vi auguro buona domenica spero questo video vi sia piaciuto fatevi il corso gratuito smettila di fare ads per favore smettetela di fare ads ho chiamato così questo corso perché voglio che la smettiate di bruciare soldi in sponsorizzate che non portano risultati quindi prendiamoci da zero guardati quel video fatti il corso gratuito compra le ads non servono un razzo che è il mio bellissimo dvd che ti arriverà insieme al mio bellissimo manuale la bibbia delle ads e poi soprattutto dopo sparati il mio bellissimo corso sui social quello da che costa mille euro ok vedrai vedrai come otterrai risultati come gli altri miei studenti va bene vi auguro una buona domenica e torno a combattere contro i miei haters ok contro quelli che mi criticano e vado a prenderli un po in giro va bene ragazzi buona domenica e buona lasagna ciao a tutti